Signor tenente, vedilo anche tu Anna, purtroppo non ho un attimo di tempo, ma se lei insiste per vedermi, venga nel mio camerino durante il monologo d'Amleto, essere o non essere, va bene così Anna? Spopola! essere o non essere, essere o non essere, questo, questo è il problema, se è più nobile nell'animo soffrire i sassi e i dardi dell'oltraggiosa fortuna o prender armi? La ringrazio molto d'avermi ricevuta, se lei sapesse quanto ho sognato a questo momento E ora forse che delusione Oh signora Si accomodi Grazie Essere o non essere Questo